Allora, come disse, vi presentiamo un brano di un autore che si va un po' indietro, abbiamo sentito il classicismo, abbiamo sentito Beethoven che è il grande, diciamo, compositore post-mozartiano, compositore romanticismo, non ci ho perso. Allora facciamo un bel salto indietro e andiamo al 1690. Francesco Maria Veracini, lo portiamo perché noi veniamo dalla Toscana, è un violinista, Francesco Maria Veracini era un grande violinista del periodo parolico, che ha fondato la scuola violinistica Toscana a Firenze. Quindi, l'attuale conservatorio, il Chirubini, chiamiamolo così, è nato proprio, anticamente, come scuola violinistica fondata proprio da Francesco Maria Veracini, che è il fioriturino. Ha scritto tanta bella musica, tante belle sonate, ma ha scritto soprattutto un largo, proprio, che gli è stato commissionato da un genitore, proprio di un suo famoso allievo, gli è stato commissionato per una festa. E questo largo, praticamente, è un pezzo unico, ma è molto bello e non sembra neanche un brano barocco, sembra addirittura musica da film, però l'ha composto proprio lui. Ecco, ascoltiamolo e proprio per violino è basso, così c'è un basso continuo a compagamento del pianoforte, ovviamente. Qui il protagonista assoluto è il violino, ha una melodia veramente molto bella. Quindi, per chiesto me ne vediamo qui. Grazie. 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 Grazie.